Carissime amiche e carissimi amici di Rossini TV, siamo nella sede della Camera di Commercio di Pesaro in corso 11 settembre. Un incontro molto molto interessante per chi? Per gli imprenditori. Perché? Perché la Camera di Commercio presieduta da Gino Sabatini ha voluto ospitare la Svem, la Società di Sviluppo Europa Marche, per presentare come si potrà accedere a tantissimi bandi, quindi a tantissime risorse che sono fondamentali in questo preciso momento per l'economia del nostro territorio, viste e considerate tutte le questioni, tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi. Essere a Pesaro è importante perché per la prima volta iniziamo, cioè la Svem in collaborazione con la Camera di Commercio, perciò iniziamo a diffondere quello che sono i bandi, le linee e come vengono sviluppati. Si è preferito, e condivido la riflessione del Presidente Sampdoria e del tutto il suo CDA, di portare qui i dirigenti, che poi sono quelli che andranno a operare direttamente sui vari fondi e vari bandi, in modo che hanno un dialogo con tutti i stakeholder del territorio pesarese. Auspico che sia una iniziativa importante e molto sentita per il territorio economico pesarese. Abbiamo molte entrate dovute a questi fondi, delle economie importanti, che potremmo sviluppare su dei progetti che vanno a valorizzare il mondo economico, in questo caso pesarese, ma anche sviluppare delle reti di impresa su processi innovativi che possono dare un valore aggiunto all'economia regionale. Il nostro obiettivo è quello di ridurre i tempi. Il nostro CDA è stato nominato il 14 gennaio, con tempi di attesa per le imprese di un anno e qualche mese. Le abbiamo ridotte a circa tre mesi. Questo perché? Perché consente sia alle imprese, ma anche al territorio, di poter calare nel più breve tempo possibile le risorse europee delle varie programmazioni. Noi in questo momento ci stiamo occupando della vecchia programmazione 14-20, quindi abbiamo il compito entro il 31 dicembre 2023 di far utilizzare ai dirigenti della regione tutte quelle che sono le risorse della vecchia programmazione. Quindi parliamo di milioni di euro, circa sono rimasti ancora 400 milioni di euro da distribuire a imprese e ad enti locali, che se consideriamo il bando normalmente al 50% sarebbe una ricchezza calata sul territorio di circa il doppio, quindi di 800 milioni di euro. La crescita e il lavoro dei prossimi anni dipendono in gran parte dalla capacità di mettere a terra la grande mole di investimenti pubblici che abbiamo a disposizione. La grande partita del PNRR, gli altri fondi regionali che gestisce la regione, da questo dipende la crescita dei prossimi anni. Quindi per tanti anni abbiamo lamentato il fatto che mancavano risorse per gli investimenti, oggi ce ne sono tante, dobbiamo spendere, non possiamo vivere il PNRR come un fastidio, è una grande opportunità di sviluppo e a maggior ragione nel nostro territorio dobbiamo farlo, dove abbiamo attratto già tantissimi investimenti, solo nella città di Pesaro parliamo di 1 miliardo e 700 milioni. Quindi pancia a terra, al lavoro per mettere a terra più velocemente gli investimenti, dare opportunità alle imprese e questo incontro di oggi in Camera di Commercio è molto molto utile da questo punto di vista. Grazie. Grazie.